Ciao a tutti, io sono Claudia, ho anche Ciccia-san, ho 25 anni e faccio video stupidi e demenziali su YouTube. Io sono una persona che non si prende molto sul serio, sono una persona molto autoironica, mi piace tanto ridere e far ridere, ho scelto di far ridere perché non lo so, non mi andava di mettermi in cattedra a insegnare qualcosa perché alla fine non so fare niente, quindi probabilmente neanche far ridere, ci provo. Molto spesso la cosa un pochino proprio mi dispiace, la mia ironia non viene colta, nel senso molti pensano che le cose che io dica siano cose vere, io scherzo, sto scherzando, è ironia, è ironico, non è reale. Ho detto veramente sta cazzata? Continuo a parlare e poi lascio a voi le ovvie, ahimè, deduzioni. Non credo sia dovuto alla mia mimica, anzi, io so che non mi ci avvicino neanche lontanamente, però il mio comico ideale è Woody Allen. Io amo Woody Allen, voglio sposarlo e voglio farci tanti figli e il fatto è che a me fa ridere quel tipo di comicità, questa comicità in cui la faccia è scollata da quello che si viene detto. Non rido mai di quello che dico, se no gli altri non riderebbero. Non credo che sia dovuto a questo il fatto che la gente mi prenda sul serio, perlomeno non spero perché se no veramente ho sbagliato tutto. Una donna... Voi non avete idea di quanto soffre a togliersi tutti quei peli e vi assicuro che purtroppo non lo fa per se stessa. Io sono partita dalle donne perché a me le donne fanno ridere ma in senso buono, nel senso le trovo stupende perché siamo un mondo veramente complesso, i maschi non li ho mai capiti e non li capirò mai. Io ho cominciato con battaglie più piccole e più accessibili passetto per passetto che possa essere lo spettacolo, che possa essere la meritocrazia. L'ultimo video che ho fatto, YouDog, è una satira molto sottile che parla proprio di questo. C'è tanto qualunquismo, c'è tanto pressappochismo ed è una cosa che è completamente sbagliata perché adesso tutti possono essere tutto. YouTube è fantastico per questo perché ti permette di poterti esprimere totale libertà di pensiero e ti è democratico. Ma che è successo? Ascolta abbiamo appena fatto un incidente, vi stavamo in macchina, dice di essere diventato ciego, io non lo so però credo sia sotto shock non lo so ci puoi dare una mano per favore? Che cazzo? Lascialo, ma che cazzo fa perché sei un animale, porca puttana! E io ovviamente posso parlare di Freaks Freaks oggettivamente è un evento Che cosa posso dire? Che Freaks è frutto di passione e sudore Perché nessuno a questi ragazzi ha regalato nulla Nessuno Sono stati un culo come un paiolo E io sono felicissima di farne parte Sono orgogliosissima di tutti quelli che l'hanno creato E ci teneremo proprio a dirlo Sono proprio fiera di loro Tanto, 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 tanto Sono proprio contenta Dai, rispondi Il fatto che Freaks abbia molte falle E vedete, oggettivo Cioè ci sono delle toppe in Freaks sicuramente Però loro sono stati dei pionieri in questo E sono stati grandiosi Non bisogna mai dimenticarsi che è stato scritto da ragazzi di 20 anni Senza un euro Cioè ragazzi che lavorano Ma che lavorano Non che guadagnano con YouTube Possono dire che hanno avuto un'idea furba A unirsi Perché? Cioè alla fine sono dei ragazzi che si divertono Siamo dei ragazzi che ci divertiamo A fare i video su YouTube Un giorno ci siamo riuniti Abbiamo detto Perché non facciamo una cosa tutti insieme? Io non ci vedo tutto questo macchinare Stanno semplicemente riscuotendo Il risultato di quello che hanno costruito loro Nessuno a questi ragazzi ha regalato nulla Questi ragazzi Non sono diventati famosi Perché stavano con un politico O perché erano amici di qualcuno Dei palinsesti importanti Sono diventati famosi perché sono bravi E quindi cos'è che non è giusto? Credo che lei abbia fatto una scansione molto dettagliata di Freaks Se l'è visto, se l'è rivisto Cioè si vede che sa di cosa sta parlando Nel senso che penso l'abbia visto mille volte Io quello che posso dire è che è una sua opinione Mi dispiace che non le sia piaciuto Perché a me piace Però è una sua opinione La rispetto in quanto tale Ho stima della sua intelligenza Spero che le prossime puntate le piacciono E spero che apprezzi la mia citazione Mi è dispiaciuto che non le sia piaciuta E Freaks è una figata Quindi la mia opinione è diametralmente opposta alla sua Ma non c'è critica in quello che lei ha detto da parte mia Cioè c'è una leale opposizione Parlo con te, sì Proprio con te Attrice con la T maiuscola No, studio da parecchio Cioè in realtà quello è il mio mestiere Peccato che non si è accorto nessuno Però vabbè Sto montando un po' di robetta È che Freaks mi ha inglobata completamente Cioè io non capo più Cioè se voi guardate ho due giri di occhiaie E tanto trucco Però non ho veramente avuto il tempo materiale Tra il lavoro e Freaks Di fare altri video E c'ho 2000 idee che voglio fare Però non ho avuto il tempo Quindi chiedo scusa a tutti quelli Pochissimi Che guardano i miei video Scusate, perdonatemi Caricherò i video il prima possibile Allora qui sta YouDog YouDog L'amico delle cagne Grazie per l'intervista Grazie per le risate Mi avete fatto morire da ridere E un bacione gigante a Bonsai TV E un bacione gigante a Bonsai TV